Ciao a tutti amici di Avriai, un salutone dal vostro green, parliamo oggi di Di Maria Second Inform, 88 di overall per questa carta qui, differenza principale di questa carta rispetto a tutte le altre versioni che lo accomuna alla versione Man of the Match è il ruolo centrocampista centrale invece che esterno destro. Com'è questo Di Maria? Intanto non usatelo come centrocampista centrale perché difensivamente fa cagare, diciamolo proprio così, 45 nella marcatura, 60 nelle scivolate, 55 nei contrasti dai piedi, 57 di intercettazioni con questo 67 di forza fisica che ogni tanto lo fa volare, e dopo parleremo meglio della forza fisica, veramente come centrocampista, voi sapete che il centrocampista deve sia difendere che attaccare, difensivamente è una ciofeca, quindi nada. Dove può essere utilizzato? Secondo me i ruoli in cui può rendere al meglio questa carta sono COC oppure AT in un falso 9, 4-3-3 col falso 9. Perché? Perché ha degli ottimi passaggi, 88 nei passaggi lunghi, 86 nei passaggi corti, 84 visioni di gioco, work rate alto alto, quindi uno che corre avanti dietro per il campo, ha un 4 stelle sulle ammossa abilità, stavo dicendo piede, piede perché? Perché ho in mente queste 2 stelle sul piede debole che sono la pecca più grande di questo giocatore, soprattutto se lo usate come attaccante, perché veramente tirare col destro significa non tirare, significa non tirare ragazzi. Allora lui ha un grandissimo controllo palla, 91, grandi dribble 92 con le 4 stelle skill, ok, andate via di lusso, velocissimo con 93 accelerazioni, 93 sprint, 96 di agilità, 84 di equilibrio e 85 di riflessi. Quindi questi valori diciamo che con la forza fisica 67 ogni tanto sembra che lui sia veramente una foglia, altre volte invece resiste molto, forse anche troppo bene ai contrasti. Per cui la forza fisica la metto nel limbo praticamente, non è né un più né un meno perché veramente ogni tanto lui resiste e ogni tanto no, per cui secondo me non è da mettere fra in meno proprio alla grande così come le 2 stelle sul piede debole. Il tiro, com'è questo tiro? Allora ragazzi, effetto c'è, va benissimo effetto c'è, potenza tiro 97 si sente, l'86 nei tiri della distanza non si sente niente, perché? Perché lui ha 81 finalizzazione. Questo è un valore che secondo me incide pesantemente sul risultato dei tiri che andate a fare con Di Maria, perché veramente non ho mai visto un giocatore più sfigato di questo nel tirare in porta. Ok che mi sono trovato contro sempre portieri di livello tipo Neuer che sembra abbia 4 braccia, però veramente ho fatto di quelle partite in cui non riuscivo a capacitarmi, come Magna anche col sinistro, se non dovevo, cioè bisogna proprio entrare dentro in area per fare i gol, per cui lo preferisco veramente dal punto di vista dei passaggi. Poi magari sono stato sfortunato io, però anche quando facevo il tiro di potenza da fuori la palla andava altissima, oppure il tiro giro andava un po' a lato, per cui secondo me la finalizzazione è abbastanza penalizzante, anche perché diciamo potenza tiro è quasi 15 punti sopra la penalizzazione. Sì, sopra la penalizzazione, sopra la finalizzazione. Lo stesso l'effetto è ben 11 punti più alto della finalizzazione, per cui sono dei valori altissimi però. Quindi ritorniamo a dirvi, ritorniamo, sono io da solo, Ritorno a dirvi che secondo me è ottimo come COC, come AT, essendo che lui ha questi buonissimi passaggi, anche il cross è un 95 per cui potete utilizzarlo per calciare dalla bandierina, AT ovviamente, ovviamente facendo gli scambi e gli insedimenti per le ali. Poi ragazzi se vi trovate in area, il gol ve lo fa, tiro a giro, tocco sotto, ve lo fa, però ogni tanto veramente restate con la bocca aperta vedendo certe cose. Per cui andiamo a ricapitolare, questo giocatore con questo work rate alto alto, abbiamo detto che lo fa andare su e giù per il campo come una scheggia impazzita, ottime doti di dribbling, di velocità, di controllo palla, secondo me i passaggi sono veramente un valore per questa carta in questa posizione, cioè centrocampista, centrale, che io vi assolutamente raccomando di mettere come COC e poi come AT se volete provarlo, i passaggi sono fantastici, il tiro ovviamente solo di sinistro perché le due stelle sui piedi debole sono una cosa orrenda, orrenda, il tiro abbiamo detto, evitate di fare troppi tiri da fuori, nonostante la potenza, nonostante i long shot, perché la finalizzazione è penalizzante, questa si la metto nelle cose negative. Dentro area invece, ok. Il prezzo, anche questa è una cosa che non mi piace molto, si aggira intorno ai 300.000 crediti, sinceramente, nonostante questo overall, questo qui secondo me è un giocatore che può valere questi crediti solo se voi sfruttate al meglio la sua velocità e i suoi passaggi. Se invece voi prendete giocatori veloci per buttare la palla su, evitate di spenderli, perché ci sono giocatori molto, ma molto, ma molto meno costosi. Questa è la review, ragazzi, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, lasciate un commento ed un like, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video, stay barba, stay qualità, ciao belli!